buongiorno buongiorno occhio di lince perché non mi conosce ancora mi chiamo edo thomas sono insegnante di yoga da più di 15 anni utilizzo la neurologia funzionale per migliorare la pratica di yoga ecco oggi non vi faccio fare nessuna posizione strana di yoga non faccio fare nessun esercizio di respiro ma faccio un discorso che secondo me è fondamentale andare in giro dove ci sono i campi i verdi questa è anche anche questa è una pratica yoga sono qua in un parco mi sto sto andando verso il castello di brescia per chi non conosce è veramente veramente bello quindi mentre io parlo mi seguite mi fate compagnia allora prima di cominciare un discorso iscrivetevi al mio canale e schiacciate la campanella di avviso e mettete like in un commento perché così in questa maniera questo video va a raggiungere tante altre persone e mi date una spinta per favore al mio canale ok che ho bisogno tanto di voi allora mentre cammino sto salendo è abbastanza in alto qui non è semplicissimo ecco ancora un pezzo allora stamattina volevo spiegarvi un po perché ho scelto lo yoga perché la mia carriera perché non sa ho lavorato tantissimi anni in palestra sono un po di rumori qua ragazzi ma non c'è niente da fare più di 35 anni in palestra per cui ho fatto di tutto dall'hip hop al step sala pesi e tutta una serie di cose legata comunque alla palestra fitness da un certo punto mi ha aiutato tantissimo adesso vi faccio vedere ragazzi e qua sto entrando nel castello di brescia che spettacolo ok allora mi stavo dicendo dopo tanti anni di insegnare in palestra ho detto vabbè adesso dovrei fare un altro passo questo passo poteva essere che ne so un'attività per esempio il pilates che già in quel periodo andava tanto di moda ma anche adesso moda ma comunque una pratica interessante poi ho detto no no il pilates no altri tipi di attività magari che poteva essere legata alla cina per cui il qi kung o altre discipline ho detto no aspetta un attimo che secondo me siccome avevo fatto già delle pratiche yoga tanti anni fa ho detto no aspetta faccio guarda qua ragazzi ingresso ok saliamo e ho detto prova a fare yoga quando ho iniziato proprio le prime lezioni che poi è stato in india ho detto è questo qua io questa roba qua mi sembrava che fosse già mia mi sembrava che avesse già fatto non dico in un'altra vita ma può darsi di sì mi veniva facile era un discorso che poi dico aspetta questa roba qui lo so già è stato veramente strano questo approccio scusate che sono qua che passo da una parte all'altra c'è il sole qua dietro e sto entrando in questa zona nel castello di brescia che poi tra l'altro la in fondo vi faccio vedere c'è una locomotiva ma sinceramente non so il perché c'è una locomotiva dai tempi qui sopra in castello ci sarà un perché ah ah la faccio vedere aspetta che arrivo un po più vicino vado all'ombra poi dopo riprendo il discorso adesso riprendo allora vedete qua dietro di me qui una locomotiva ci sarà il perché non andiamo dai allora mi stavo dicendo che quando iniziato era proprio una cosa che sembrava così facile facile nel senso di capire di dell'approccio proprio vero e proprio ovviamente col corpo che siccome facendo pesi e altri tipi di attività ero abbastanza rigido ma certe posizioni mi venivano come dire caspita mi sembra di aver già fatto ecco questa è stata la mia impressione subito alla quale locomotiva subito all'inizio poi mano a mano andando avanti cercando di approfondire su determinati tipi di metodi che poi mi sono approcciato più vicino alla younger poi sono passato degli altri metodi come vanda scaravelli vinyasa yoga l'ashtanga ho provato una volta sola quello mi manca per cui chi fa ashtanga apprezzo forse di più di una volta forse più in america l'avevo provato altre volte anche in una sala molto calda mi ricordo però mi manca questa esperienza ancora non è detto che poi magari un giorno farò ecco ragazzi vi faccio vedere qua brescia dietro di me spettacolo qua sopra è veramente un spettacolo mi avvicino ok per chi non conosce brescia qui è il castello di brescia credo che da quella parte di là in fondo è dove abito io verso il lago molto bene quindi il discorso di come mi sono approcciato alla yoga di cosa o perché ho scelto lo yoga è più o meno qui non è stato veramente un motivo dove mi ha portato no lo sento proprio quasi come se fossi cosciente non sapevo di non fare questo quello quell'altro e via sono andato veramente su una strada dritta ecco questa è stata esattamente questo è stato esattamente il mio approccio ricordatevi di seguire il mio canale di schiacciare la campanella di avviso per non perdere anche una lezione oggi abbiamo fatto una chiacchierata io vi ho fatto conoscere il castello di brescia faccio ancora una panoramica qui sopra non sono ancora in cima in cima ce n'è ancora più da salire però finiamo qui oggi qui c'è una vista spettacolare di seguire il mio canale schiacciare la campanella mettere i like che è importante iscrivervi qualcosa un commento perché così il mio canale va a raggiungere tante persone aiutatemi ok per oggi ho finito un video abbastanza breve e grazie a tutti e ci vediamo lungo le strade